Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio far vedere come realizzare una prolunga di una presa di corrente con del materiale di recupero e dal valore di meno di 5 euro, quando invece sul mercato troviamo delle prolunghe di circa 2 metri dal costo almeno di 7 euro fino ai 12-15 euro. Ora vi farò vedere come realizzarlo. Come prima cosa abbiamo recuperato degli spezzoni di filo da un impianto elettrico già esistente che è stato modificato e ho ricavato queste spezzoni di filo che sono lunghi circa poco più di 2 metri, li ho tagliati in parti uguali e poi come potete vedere su ogni estremità sono andato a praticare una spellatura del filo. Allora questa spellatura come vedete è lunga circa 8 mm, potete fare anche voi una misura di questo tipo, dai 5 mm agli 8 mm va più che bene. Queste spellature ci serviranno per poi inserire i fili all'interno della nostra spina e della nostra presa. Bene, per prima cosa dovremo aprire la nostra spina e la nostra presa rimuovendo la vite centrale che è diciamo su una delle due estremità in questo caso mentre qui abbiamo una vite che viene avvitata su un dado interno. Quindi una volta che noi apriremo le nostre prese potremo andare a posizionare i nostri fili nei vari punti che vi andrò a mostrare. Ok, partendo dalla spina dovremo andare a svitare queste viti che sono posizionate qua sopra per ogni singolo connettore. Quindi si estrae il connettore e si lavora da connettore smontato. Da questa parte dovremo allentare questi due fili, questi due viti per poter far passare fili all'interno di questo occhiello il quale quando noi lo andremo a stringere ci terrà fermi tre fili come andremo a vedere poi successivamente. Ora io andrò ad allentare queste tre viti e vi posizionerò già il filo nel modo corretto. Tenete in considerazione che queste informazioni che vi do molti di voi le sapranno già però ci sono certe persone che con l'elettricità non hanno molta dimestichezza quindi reputo che ogni informazione sia abbastanza importante. Il posizionamento dei fili su questo punto qua, su questo connettore qua, è ininfluente agli esterni cioè io posso utilizzare il filo marrone e il filo blu mettendolo in un verso o nell'altro perché la corrente come sappiamo di casa è una corrente alternata mentre invece nella parte centrale ci andrà sempre soltanto il filo di terra che è evidenziato col colore giallo verde. Benissimo ora abbiamo fissato finalmente i nostri fili come vedete il filo marrone e il filo blu sono fase e neutro la terra questi due fili io avrei potuto anche invertire cioè mettere il marrone il posto del blu e il blu il posto del marrone non ci sono problemi quello che non bisogna sbagliare è questo qua anche sulla spi anche sulla presa dall'altra parte dovremmo fare la stessa cosa quindi io adesso qui ho posizionato questo passacavo ma da questa parte fisserò i tre fili con una fascetta per fissarli meglio fare in modo tale che quando io tolgo la spina questi tre fili non si tirino mai ok come vi dicevo prima abbiamo dovuto considerare anche questo questo occhiello quindi io la fascetta l'ho messa prima di questo occhiello ora andrò a stringere le viti di questo occhiello in modo tale che i tre fili non si muovano più e poi andrò a serrarlo con il coperchio della spina ok la spina come potete vedere è pronta in questo momento abbiamo finito la prima parte ora attraverso l'utilizzo di un trapano di un avvitatore o anche a mano io vi suggerisco di attorcigliare tutto il filo perché altrimenti vi rimarrebbe in questo modo e non penso che sia una soluzione molto molto elegante quindi ora io adesso andrò ad attorcigliare il filo con l'ausilio di un trapano e poi vi farò vedere come passare alla presa ok avendo attorcigliato i nostri tre fili al mandrino di questo trapano ora lo accenderò e potremo vedere come poter attorcigliare appunto i fili vedete che bel sistema di attorcigliamento dei fili in questo modo viene molto omogeneo per tutta la sua lunghezza ok questo è l'effetto che abbiamo ottenuto attraverso il nostro il nostro trapano ora andremo a fissare questi tre fili sempre nel medesimo modo nella nostra presa quindi come vedete allentiamo questo vi questa vite centrale per posizionare centralmente sempre il giallo verde e lateralmente il marrone o il blu e il marrone o il blu stringiamo tutto seriamo ricordiamoci di far passare i fili all'interno di questa di questo occhiello che ci servirà come prima per fissare tenere fermi cavi io di qua metterò sempre una una fascetta per fissarla ulteriormente e poi vi farò vedere il l'oggetto finito ok abbiamo fissato anche i fili con la fascetta ricordati dell'occhiello ora andiamo a mettere la sua calotta di chiusura come in questo caso avvitiamo la sua vite e l'oggetto è finito ok benissimo questo è il nostro oggetto finito e ora andremo a provarlo col nostro trapano sempre questa è una delle prove del 9 che normalmente si fanno più comuni quindi stacchiamo la spina del nostro trapano dalla presa di corrente ci colleghiamo la nostra presa di corrente con il nostro adattatore mettiamo la nostra presa per terra alla spina colleghiamo la spina alla presa alla nostra presa e verifichiamo se il trapano funziona perfetto direi che anche in questo caso il progetto anche se pur semplice è riuscito quindi perfetto grazie e al prossimo video ciao